Allora, come va, salsicciotto? Ah ah, no, sto scherzando. Sei molto sexy, così lo sai. Ma quando è che ti levi le calze? Dai, non prenderla così. Guarda, che cosa ho trovato. Il manuale. Qui c'è tutto. Se leggiamo, scopriremo come cavarcela. Allora, c'era una volta il loom, l'armonia, l'amore, la pace. Ah, ma è una scenettatura. All'improvviso, André trasforma il loom rossi in udlum. Il mondo è in pericolo! Ah, ecco, qui dice che Globox se n'è andato con le tue mani. Beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte. Ah, non sarà facile mettergli le mani addosso. Soprattutto per te. A proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti. Ecco, guarda il contatore. Ti faccio vedere. Quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo. È qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più. Ma non è saltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti. Ultima cosa. I punti fanno accedere a dei livelli nascosti. Quindi cerca di fare il punteggio migliore. Beh, il manuale non è straordinario, ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre cosette utili. Ecco, qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto. Ma davvero? Che l'avrete detto? E qua dice che per attaccare bisogna premere il pulsante di attacco! Bravo! Scusate, pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggine? Quai, man! Sei davvero il migliore! Aspetta, è troppo buco! Il manuale dice che puoi fare un elicottero con i tuoi capelli! Un elicottero con i tuoi capelli? Ma cosa hanno fumato? Bravo, Rayman! Sei davvero il più grande eroe! Troppo forte! Evviva! Blomox! Blomox! Puoi rispondere! Guarda! Guarda! Il concilio delle fate! Se vuoi cuccare il disconsiglio a questo posto. È pieno di vecchi e meggere un po' svitate. Oh, un'altra perla di saggezza del manuale! Dice che gli interruttori servono per attivare... ...i meccanismi. No, ma francamente chi ha scritto questa bip? Cosa? Che cos'è? Che cos'è? C'è qualcuno? Dove? Dove? Eh? È la voce di Globos! Lasciatemi! Lasciatemi! Sono invisibile! Non mi vedete! No! Non toccate il mio barile! Oh! Oh! Sentite! Si può fare in tre? Oh! 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 Ehm! Buongiorno, stelle! Buongiorno, natura! Fiorellino! Come ti chiami? Rosa! Io sono Globos! Oh, bella luce! Oh, Ryman, hai acceso la luce! Che bello! Ecco, vedi? Cosa ti dicevo? Tornano i cattivi! E ovviamente cosa fanno? Attaccano il concilio delle fate! No, Mario, non è possibile! Dopo Ryman 2 mi avevano promesso un ruolo d'artista tormentato che si innamora di una tipa molto... ...intelligente. In realtà, mi ritrovo a fare la mosca in un film di serie... Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo riacciuffare André prima che raggiunga il cuore del mondo! Ehi, guarda! Un interruttore! Ad ogni colpo, attiva un meccanismo! Brigati! La forza cresce potente in André! Aspetta il gruppo che andrà in giro a raccontare di essere tuo padre! Vai, colpisci! Oh, Rayman! Fantastico! Senza di te non ce l'avresti mai fatta da solo! Guarda! Dei salvatanai! Non sono indovino, ma ho idea che contendano qualcosa! Troppo forte! Evviva! Libero la tua aggressività! Se André trionfa, impiccherà Globox e ti obbligherà a suonare l'armonica! Guarda! Incredibile! Spaccando i salvatanai hai aperto la porta! Questo posto è davvero troppo magico! Il manuale dice che puoi lanciare i pugni lateralmente! L'autore insiste! Deve essere importante! Bene! Immagino che dovrai rimontare! Comunque, ora capisco perché ne fate! Non vanno spesso nei locali notturni! Tornare al concilio alle 5 del mattino con un colpo al naso certo non deve essere facile! Oh, scusami! Mi stanno sussurrando un messaggio! Eh? Ah, è responsabile del progetto! Si scusa, nome di tutta la squadra per questo addestramento! E cito... Non è divertente! Ma dice che devi applicarti! Perché i lanci laterali ti permetteranno di battere gli udlum! Andrei là! Presto! Sparagli! Non posso tenerla fatta nel volto! Ma dove sta scritto che andavamo a farmi il cascatore da solo? Ascolta mezza cartuccia! Quando avrò trasformato l'energia del cuore in udlum? Tornerò ad occuparmi di te! Ma che diavolo è questo? Il detersivo laser che trasforma i tuoi abiti in tenuta da combattimento! Tenuta da combattimento? Esattamente quello che ci serve! Hai ragione! No, Ryman! Appartieni agli udlum! Forse è pericoloso! Oh, molto chic! Ora devi solo capire come funziona! Non perdiamo tempo! Mi vado la sopravvivenza di tutti i popoli! Ditemelo se esagero, eh! Ehm! 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 Ehm... Ehm! Grazie a tutti.